Benvenuti al nuovo appuntamento del TG Web List del Consiglio regionale della Basilicata. La situazione dell'ospedale di Matera è molto preoccupante. Ancora più preoccupante è il caos che aleggia fuori e dentro l'ospedale. Mentre si fronteggia il costante aumento dei contagi e il relativo stress della struttura che pare essere arrivata ormai al limite, apprendiamo che anche a livello amministrativo la situazione non è delle migliori. Lo dichiara il consigliere del Movimento 5 Stelle Perrino, che torna a chiedere a Bardi e Leone che un rappresentante della Task Force Dipartimento Sanità o rappresentante della Giunta vada settimanalmente a fare il punto in commissione sulla emergenza sanitaria. L'ospedale di Matera è saturo e sottodimensionato per organico ed inoltre non si conosce la disponibilità e la modalità di distribuzione dei vaccini anti-influenzali in regione Basilicata. Lo quali chiede di relazionare dettagliatamente per far comprendere lo stato dei fatti e la programmazione nel breve periodo che il Governo regionale e il Dipartimento hanno intenzione di mettere in campo prima che sia troppo tardi. Sembra paradossale il dover prendere atto che le ASM non hanno posto in essere alcuna valida iniziativa per riaprire in tempi brevi il CUP di Matera, una struttura ancora più essenziale in questo periodo pandemico. Lo evidenzia il consigliere di Basilicata Positiva IV per il quale Matera e i Materani non meritano di continuare a patire disagi, disservizi e inefficienze frutto di lassismo e di mancanza di sensibilità operativa. Il progressivo peggioramento della situazione epidemiologica ci impone di non tergiversare nell'adozione di misure che appaiono essenziali per evitare che gli ospedali vadano in tilt e non riescano a reggere l'onda d'urto che è determinata non solo dalle esigenze di salute dei malati Covid ma anche dalle necessità di cure espresse dai pazienti di quella che potremmo chiamare la sanità ordinaria come i pazienti oncologici o quelli affetti da patologie come ictus e infarto. Lo sostiene il consigliere di Fratelli d'Italia Viziello per il quale occorre fare presto e bene per fronteggiare l'emergenza Covid. Soddisfazione del consigliere della Lega Zullino per l'approvazione in quarta commissione della proposta di legge da lui presentata sul garante dei diritti della persona. Il nuovo garante, dice, svolgerà la funzione di difensore civico, di garante per l'infanzia e l'adolescenza, di garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di garante delle vittime di reato e di garante dei diritti delle persone con disabilità. Garantirà la legalità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa ma soprattutto tutelerà tutti coloro che non sono in grado di autodifendersi. Il presidente del Consiglio regionale e presidente del coordinamento delle commissioni e degli osservatori regionali sul contrasto della criminalità organizzata e sulla promozione della legalità Cicala, nel corso di una videoconferenza con il prefetto Bruno Corda, attuale direttore dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ha chiesto di continuare il percorso intrapreso con il suo predecessore per lo sviluppo di un lavoro riguardante beni ed aziende confiscati e sequestrati alla criminalità organizzata. L'ormai vicina chiusura dello spazio informativo Basilicata Open Space presente nel palazzo dell'annunziata a Matera e la conferma del disinteresse verso un settore che negli ultimi anni ha fatto conoscere e apprezzare la Basilicata a livello internazionale e, come se non bastasse, risulta oscura la sorte delle professionalità impiegate dall'APT in questo innovativo spazio. Così il capogruppo del Partito Democratico Cifarelli per il quale non va disperso il patrimonio di fiducia e di affidabilità conseguito grazie all'agoniato titolo di Capitale della Cultura Europea. È tutto, grazie per l'attenzione prestata all'appuntamento e alla prossima edizione.